Sono poco più di 2.000 in campagna i lavoratori del settore idraulico forestale in servizio nelle comunità montane. Erano il doppio pochi anni fa e gran parte oggi. Non ha un contratto stabile. Ecco perché scendono in piazza i forestali che tra le varie mansioni partecipano allo spegnimento degli incendi boschivi. Un presidio organizzato davanti all'ingresso della regione Campania sotto il vessillo delle sigle di categoria di CGL Cisle Will, la forma di protesta scelta per lo sciopero generale del settore. La mobilitazione è stata decisa dopo il tavolo regionale per la tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio forestale dello scorso 18 aprile, al termine del quale la regione Campania non ha però risposto come d'attese dei lavoratori, che auspicavano una stabilizzazione sia economica che contrattuale. Carlo Augusto Ceccarelli, segretario Flai CGL di Avellino e Benevento, e Bruno Ferraro, segretario Fai Cisle della Campania, hanno spiegato le ulteriori motivazioni alla base della protesta. I lavoratori che stanno sono precari da circa 20 anni, che c'era stata una promessa data due legislature fa, ecco l'onorevole del governatore De Luca prometteva e garantiva di aiutare la stabilizzazione di questi lavoratori. Noi oggi stiamo a rivendicare quel diritto. Un occhio di riguardo alle zone interne è arrivato il momento di darlo, ecco io dico questo al governatore. Lo sciopero di stamattina è per chiedere al governatore di risolvere una volta per sempre l'annosa questione dei lavoratori forestali, soprattutto degli operai storici stagionali, che da oltre 20 anni lavorano sulle nostre montagne e garantiscono la tutela e la prevenzione e la manutenzione del territorio.